Welcome to Winston, baby! Ho trovato un disco grigio, Ivo Pino Comunque siamo tristi, l'euforia è solo recitazione Esatto Oggi porteremo G-Sport a scoprire il bike park più bello del mondo Anche se dall'altro giorno mi ha scoperto che più bello del mondo è San Pix Sei contento di essere qui? Andiamo, sì, sono contento Va bene, ciao Ah, 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 che benessere! Era di qua? Ah, tu vai subito davanti così, mai stato qui, guido io, va bene, ciao Holloway, Ivo P Pasqua e Team On the fucking bridge, yeah! Non l'ho mai passato quel salto l'incredibile Primo doppio, oh, oh, oh C'è il techy qua Oh, rocce scivolator Sì, manda al ripido, Gino, molla tutto Oh, disco grigio di schiavita No, ho sbagliato, no, l'ho chiuso, no L'ho chiuso la passerella storica C'è stato un clima quasi perfetto perché siamo arrivati appena dopo la pioggia Quindi ha tolto la polvere però ha messo dentro questa roba qua Oh, minchia, le vittorie grippano però sui sassi È brutto Oh, qua è da fare un'impennatina però E upala Si riparte in freight train da Creekside Ricominciano i salti tra un attimo Dunque qua ci dovrebbe essere ripidone Le ripidone della roccia Con la hip nè Allì In the hip jump Cacchio, l'ha ripicciolito, che tristezza Poi c'è un doppione lungo, poi c'è un altro doppione Sono un sacco di salti Allora, good On the step up, let's go Oh, shit Aiuto, ah già qua c'è un drop Oh, lento Non vi ricordavo più così grossi questi Sì, che figata Si va straforte E via, è così Primo giro andato Purtroppo non possiamo scendere fino in fondo Cioè, in realtà possiamo scendere fino in fondo Facendo adormerci Ma c'è una coda incredibile Quindi ci facciamo un giro ancora in alto E scendiamo al prossimo giro Com'è G-Sport? Penso di aver provato l'1% di questo bike Sì, forse neanche Se è tutto così è una bomba Ovviamente è una bomba Thank you Anche abbiamo trovato l'Oclist Step up Island Dobbiamo di buttarci un table lino Che G-Sport ci fa la foto Oh, cortissimo Vediamo il ripito della morte Minchia che stecca Allora, primo giro per G-Sport Soddormerci oggi Let's go Oh-oh-oh-oh ragazzi è tornato il nostro eroe canadese Daniel Rao, Franfano, with love come butta uomo? sei pronto a gasare trabimpatti sideways? facciamo un po' di laps eh certo c'è Alex deve fare practice per vincere domani ho finito con le mie practice oggi e ricomincio ancora adesso ricomincio con altre practice ragazzi abbiamo Alanko e ci tirerà su un cravappo giusto? un veiculo ok, i'm gonna follow you wow, li hanno incazzati di bestia ragazzi che figata seee, madonna quanto spara ok, sembrerebbe che stiamo per seguire Daniel Rao molto vicino su questi salti incredibili ratatata, 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 ratatata friccio one, let's get it ah, giù in carrena raga ho troppo incazzato wow, questo non lo faceva da botto raga dermerch following Daniel Rao ok, i'm gonna follow you then crazy, yeah let's get it siamo dietro al destroyer boys the park destroyer Daniel Rao wow wow Sono attaccato, sono attaccato! Pedala! Brace it! Brace it! Brace it! Oh mio dio, ma mi stai dando un caccio in faccia! Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a chiudere tutti i salti, finalmente! The Italian crew on the E-line. Va bene, è un pelino lento il bro. Oh mio dio, lungo! Fugas! Il mega salto della morte! Yes! Si sbaglia! Madonna mia, dove sei andato? Momenti mi tocchi il soffitto! Ecco, guarda quale linee che fa questo qua! Ho perso! Oh, ciao! Oddio, ma cosa hai messo? Lo speed up! E qui! La mega hip! E hanno tolto già il panettone storico, purtroppo! Però c'è una hip nuovissima! Noi facciamo un table! E facciamo gli sprappinator! Questa prima giornata si conclude al meglio, con del gas potentissimo! E poi arriva G-spar con la spalla uscita ragazzi! L'ultimo salto della E-line con la spalla a fuori! Complimenti! Per cominciare la nuova giornata di riding oggi, Daniel Rao si sta preparando durissimo! Abbiamo messo un pezzo di motivational e adesso andiamo su perché c'è il whip off contest! Krabappo Eats! Eccoci, buongiorno! Siamo qua alla partenza di Krabappo! Ci sono tutti i pro del mondo della bici! Ho preso Daniel Rao, che non lo sa ancora ma è già pro! Sta per iniziare il whip off e faremo un po' di giretti, probabilmente tipo 7-8 perché poi finisce il tempo! Si è andata la sua piedina, si sbatta! Sei partì! E andavanti Tommasi Stead, Daniel Rao! Oh merda merda! Questa è una uscita di merda! Vabbè, cominciamo benissimo oggi! Ok, siamo a guardarti, man! Ok, adesso siamo vicini a Robro! Oh, c***o, ma cosa fai? Ho tirato una giornata incredibile! Ho tirato una giornata incredibile! Oh! Oh! Yes! Yes! Woohoo! Yes! Dammit! Yeah! Oh, my God! Crazy, yes! He just said he was going to do this! Oh! Per questo whip off ci siamo gasati oggi, eh! Gasati, gasati! Come se è andato duro qua! Italian team! Boh, Diego non è in final stavolta, hanno finito i posti per i pro gratuiti! Quindi... Quindi guardiamo! Occhio che è partita la final, boys! Guarda qua! Oh! Oh! Tutti questi sono passati! Oh! 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 Buongiorno da Whistler boys! C'è un party alle 9.44! Quest'oggi il programma della giornata prevede disco session while piling up! Poi si va a girare in bike park! Poi si va a vedere down and roll of speed and style! Course preview del slope style! E basta! Stasera c'è il film della vita! Nothing for free! Let's go! Let's go! Let's go! Duco! Andiamo a esplorare Crickside! Attenzione! Si parte con una nera tecnica! Let's get it! Questo non è molto scorrevole! Ah! Ah! Occhio al radiciaio matto! Ah! Oddio! Ah! Oh! Cazzo! Allora abbiamo recuperato il gruppo, sono tutti vivi! Proseguiamo nel disagio qui! Wow! Che bel fiumiciatolo! Wow! Si è riunificato il mega serpentone! Colpo di scena! Davanti a me disco stu! Disco rigido! Wow! Mega svrappo per lui! Mi sa che... Perdo aria al posteriore! Uh! Traversi! Allora lo speed style è on! È il momento di vedere! Dani Rho prima run! Sarà a full course di destra! Quindi ce lo vediamo passare qua vicino! Dai Rho! Vai partire! Let's go! Let's go! Vai Rho! Ahieee! Si! Ah! Secondo! No! 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 C'è vento! No! 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 Bro! Ah tu fai video... video-filming. Tagliate il gas! Let's go! Due trick ancora, oh! Com'è com'è? Occhio! No! Oddio che male! Toto è andato giù bello secco e speriamo si ripigli in fretta e non sei niente di grave perché ha dato una bella botta di ginocchia eh! Di sport maledista. Perché se è che così non si vedono tutti i giorni. Vabbè, ciao Toto. Mi zuppi time! Let's go! Raga la rondeva la sua vita questa! Dopo mille anni si è riuscito a mettere sette oppo sette double flip incredibile! Dai! Yes! Due salti per la rondeva la sua vita! Yes! Odessa al podio poi il poderco, attenzione! Attenzione! Oh è il momento di sport lui! Lui oggi vince! Let's go! Yeah! Non ci credo, se va a Twister lì non ci credo! Let's go! Oh! No! Oh! Che fastidio! È il momento del capocantiere Emily Johnson! Watch out! Oh! Oddio! Come ha fatto! Final jump! Cosa ha per noi? Yes! È in! Let's go! E così ragazzi con questo colpo di scena incredibile! Joy reddi una ranzuola! Peter Kaiser in the background! Si conclude questo nostro trip a Whistler! Saremo ancora qui a girare domani nel Viper ma ce lo godiamo tutto! Wow! Però poi si parte, si ritorna a Sunpix Camelus di nuovo e poi saremo a Silversta! Ci vediamo al prossimo video! Ci può salutarne a tutti a casa va! Saluta mamma! Ciao ciao ciao! Ciao! Ciao ciao!